Prima o poi sarà capace di addormentarci da solo, vero? Ragazze, lavorate sodo, non siete stati assunti per la bellezza. Veramente tutti. Giunno. Alla riunione ci vieni. Sembra che ci siano tutti. Ciao ragazzi! Ce ne passa? Come va, grazie del 99? Una pezza a casa mia? No, sì. Come i vecchi tempi? Passiamo una frase di collate. Sembra una fettissola del liceo, con le fichette del liceo. Io adoro i libri di Twilight, gli umani è il mio preferito. Anche il mio? Oddio, abbiamo troppe quali in comune. Ma è così bello rivedervi tutti qui, ragazzi. Sei fortunato? Ehi, dovete proprio fissarla. Sì, dobbiamo proprio fissarla. Sì! Come c'è di andare? Potete indicarmi dove è andata? Da quella parte? Sì! Eravamo anche noi così, infantissimi. No, eravamo più maturi. Sì, stai facendo. Ma non vorrà farla del liceo. Cogliati! Sai, sono passati tre anni. Non credi che sia arrivato il momento di mettere in gioco? Non lo so. Non è il caso, Steven. Non sono... Beva, 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 beva. Porca la cassa. Gene, ti rendi conto che quel coperchio è trasparente? Che occhio! American Vice, ancora insieme. Bellentie. Ma mamma di chi? Oh, io sono il padre di Gene.